Torna il segno positivo per quanto riguarda sia Fratelli d'Italia che rimane il primo partito e anzi si avvicina a quota 21, ma va bene anche la Lega di lotta e di governo perché nonostante la piazza contro il Green Pass ma anche lo stare al governo con Draghi di Salvini non viene evidentemente penalizzato, tutti e due guadagnano 1-0-3. Guadagna anche il Partito Democratico che ritorna a sua quota 19 come potete vedere un segno più dopo che invece era stato negativo nelle ultime settimane al contrario dopo la crescita delle ultime settimane perde qualcosa il Movimento 5 Stelle probabilmente in questo caso invece le discussioni sulla riforma e il cambiamento della riforma che era targata a buona fede ha penalizzato il Movimento nonostante ormai invece abbia trovato la soluzione per quanto riguarda la leadership. Perde in modo significativo Forza Italia 1-0-3, quindi scende da 7-1 a 6-8 guadagna 1-0-1 azione di calenda mentre c'è da segnalare anche in questo primo cartello la significativa risultato di sinistra italiana la sinistra di opposizione di Fratoianni che guadagna 1-0-2 rispetto al punto di partenza insomma è davvero un guadagno importante perde lo 0-1 invece articolo 1 di Speranza il ministro Speranza Eddi Bersani perde lo 0-1 Italia Viva di Renzi guadagno importante ripetiamo rispetto al dato di partenza anche da parte dei Verdi che salgono da 1-8 a 2 quindi più 0-2 perde lo 0-2 più Europa i Verdi evidentemente le crisi ambientali di questi giorni devono aver rilanciato una sensibilità nei cittadini che votano dicevamo perde più Europa ha invariato il dato di Coraggio Italia segnaliamo semplicemente a chiusura di questo secondo cartello che il centrodestra nel totale Coraggio Italia, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega arriva, raggiunge un 48,8 allora sulla metodologia va segnalato che seguendo il sondaggio fatto da SVG il margine è veramente ridotto e il quadro affidabile ricordando appunto che i sondaggi questo è l'unico